I due luce nazionali, Dalla e Battisti, celebrati nel mese in cui avrebbero compiuto 80 anni. Paolo Conte, Bruno Lauzzi, Lady Gaga, Mina e molto molto altro. La musica di primavera del maestro Marino Pagliai è andata in scena al Teatro Verdi di Monte San Savino e questa è tanto di più. Accanto a Lamberto Rossi, Domenico Barbini, Elisa Pasquini e Matteo Turchetti, suonatori meravigliosi ed impeccabili, le voci di Sonia Mori, Noemi Albano, la stessa Elisa Pasquini. Gli sketch del bravissimo Tino Banchetti, insuperabile nell'imitazione di Roberto Benigni. Parlavo con la mia mamma, dico mamma, lo sai che il mamma mi ha detto che sta bene, mi ha detto che specialmente c'è il buon Dio che l'aiuta sempre. E due ballerini Alessandro e Silvia Gorini, padre e figlia. Pezzi che hanno fatto la storia della nostra musica e che hanno emozionato non poco la platea del Verdi a Monte San Savino. La serata è stata organizzata per dare una mano al Calcit, al quale saranno consegnate le offerte. Una primavera, insomma, salutata nel migliore dei modi. Grazie! Grazie!